Oh Landini, buonasera. Stiamo scherzando. Cosa c'è? Io voglio solo sapere se stiamo scherzando. Ma di cosa fa? Hollywood. Ah, vabbè, vabbè. Slain, ma ti rendi conto? Vabbè, ma è un'intervista. L'unica cosa di rosso che c'è a Hollywood è il red carpet. Ma lo calpestano. Ma stiamo scherzando. Non se la prenda così. La consulente d'immagine. Ce l'hanno tutti. Ma vi rendete conto? Slain, ti rendi conto? Ce l'hanno tutti. La consulente d'immagine, Enrica Chicchio. Si chiama così? Slain, tu c'hai la Chicchio, ma i lavoratori dicono cacchio. Ma non è detto. Ma stai scherzando? Pensi ai colori, Slain. Vabbè, ma... La Slain pensa ai colori. Ma non solo a quello. I colori nostri della sinistra sono solo due. Cosa? Il blu della tuta e il rosso della bandiera. Vabbè, però adesso... Armocromia. Neanche io la conoscevo. Ma stiamo scherzando con l'armocromia. Vabbè, ma è una cosa così moderna. Ma ti preoccupi del ritorno d'immagine? Ma anche sì. Ma pensa al tornio, non al ritorno. Ah, ok, va bene. Non riesce neanche a dirlo. Ma stiamo perché stiamo scherzando. Non riesco neanche a dirlo. Non leva giusti intervista a voi. Ci sono passati dal socialismo ai social. Quello è un problema. Ma stiamo scherzando. Ma tu non ti rendi conto, tu, Slain? Cosa c'è? Più accosti i colori. Più ti scosti dai lavoratori. Ma non è vero. Armocromia, personal shop. Ma stiamo scherzando? No, niente, non leva giù. Ma al massimo la camussa ci dicevano. Ma mettiti un paio di pantaloni, va. Ok.